Grazie, Presidente. Edwin era nota per le sue capacità diplomatiche riconosciute a livello internazionale. Il dialogo e l'emancipazione delle donne in Siria erano rappresentate dal suo volto. Proprio per questo era ritenuta una pericolosa miscredente. Onorare la vittima di una donna che è morta perché credeva nei diritti delle donne e dei deboli fra i più deboli non ha bisogno di parole ma di azioni concrete. Difendere quei diritti significa difendere i diritti di tutti. Questo faceva Evrin e per questo è stata uccisa. Questo accade ad un passo da noi e se noi oggi accettiamo tutta questa barbarie rimanendo indifferenti viene da chiederci a che cosa serve l'Europa. L'Europa quindi si svegli e si sveglia anche l'Italia, serri i ranghi e faccia fronte comune attivando gli strumenti che ha a disposizione bloccando tutti i finanziamenti alla Turchia che ha invaso il popolo kurdo. Alla luce di un gesto puramente colonialista che odora di sangue e piombo, oggi è ancora più evidente che la Turchia non può entrare e non deve entrare in Europa. Il suo ingresso in Europa e la mancanza della reazione da parte dell'Unione stessa esaurirebbe l'ultimo filo di voce delle minoranze e dei diritti delle donne che Evrin Calaf ha voluto portare all'orecchio del mondo rimettendoci la vita. Questo glielo dobbiamo, lo dobbiamo a lei e a tutte le minoranze oppresse. Se l'intento di quest'Aula sarà con questi contenuti, la Lega sarà la prima forza che darà sostegno a tutto questo. Grazie Presidente.